sono pronti si fra lo sai che loro riposeranno in pace a fin napoli vero si ma aspetta no 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 ritiro quello che ho detto ma simo come facciamo a batterli io so scarso anche io sono scarso e come facciamo insieme facciamo insieme ma allora hanno detto che sono pro fra c'è ma io te facciamo schifo insieme e fra ma allora hanno detto che sono pro come come facciamo la fai a una fai crin in che senso noi a volte vi ammazziamo in cinque secondi chi cosa mi sento male bu a me mi ammazzi ma lui no no a tommy non lo ammazzi ma manco pre sbaglio lo ammazzi si sicuro che mi puoi ammazzare dili che lo proteggo dili che ti proteggo io tanto tu ucci di me tommy ti splentra si si cazzo si si oppure io non gli ho detto che sono da mouse e tastiera non dirglielo eh madonna e che che cosa che cosa che cosa andrea andrea giuro che si uccida Tommy per una volta sclero bestemmia madonna non ti le posso dire cosa non hai capito no chi è che l'ha detto non ho capito g minuto comunque stava scherzando mi ha detto giuro che si uccide Tommy a meno una volta sclero bestemmia si ma stava scherzando con me si va a fa niente ma fra quanto sono forti tu hai già combattuto contro di loro si 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 scarsi o potenti o forti peggio anni non l'ho mai vissuto vabbè g minuto mettilo in confronto mio scarso o forti allora tu non hai rivali prima cosa quindi infatti c'è infatti vedi che lo sai lo messo pure come stato di whatsapp e come descrizione della play come stato che c'è che c'è tu io sono il tuo rivale rimani convinto andrea andrea in senso Tommy appena finiamo di giocare decide secondo diciderà lui secondo lui chi è più forte tra me o te e sarà leale capito andrea ah ok secondo secondo Gianluca tu sei più forte di me chi ok secondo Gianluca dice che Gianluca dice che ha ah tu devi dire Gianluca Dili a Christian che Gianluca è stato ucciso sventrato e massacrato da me Diero ah aspetta modifico quello che hai detto allora dice dice Tommy che Gianluca mentre loro hanno fatto loro hanno fatto 1 a 1 1 contro 1 Tommy e Gianluca Gianluca l'ha ucciso quant'era? tre volte andrea? sì sì tu hai ucciso gianluca 10 volte tu hai ucciso sette volte Gianluca e tu è lui una volta a te heheheheh quindi siete sicuri di vincere lui due da una dici quanto sei sicuro di vincere contro noi due di che senza? fra muta lì fra no no vabbè comunque ti dico una cosa eh comunque quando giocavo contro Gianluca non avevo le impostazioni sensibilità come ce le ho adesso cioè adesso è migliore quindi se faccio di nuovo contro Gianluca non penso che lui non è bene non è bene neanche ma tu come a te praticamente che mi ammazzi una volta a partita non è neanche sì eh scusa eh sento affesa ti voglio bene eh ti voglio bene ti voglio bene eh sono arrivato ero tenuto al campo da calcio sono arrivato minchia ora cosa ho trovato al campo da calcio sì guarda sì non c'è niente non c'è niente nooo dai cosa hai trovato? hai un giochino in più andrea no sono trovato il merito è cercare uno scarpe il piacere ma scrive prendi quello blu ah c'è il blu acido verde ma non totini 200 di pietro no non ce l'ho to 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 troppata quattro to prendi la prendi la prendi la prendi la prendi la io ho preso allora sto votando perchè l'hai comprato hai trovato un pro play cosa? frana ma io non vedo allora fra i numeri secondo me diranno che usa i cheat ma proprio secondo me guarda me già capitato sai simo ok aspettando eh ah che parla ti sento quindi praticamente sei forte quindi un paio di volte l'uccidere è un protetto secondo te quante volte l'ucciderai secondo te secondo te no no secondo te secondo te non glielo dico sei tranquillo ok vabbè spara i colpi di quante volte ho detto spara colpi non vedo l'ora eh tu come ti senti giocare bene o male? come ti senti? mettendo tranquillo stiamo arrivando a fin nato di noi fra me ho bisogno di uno scar cioè col famas non riesco a fare un cancro ancora non siete pronti? ancora non siete pronti? ok allora andiamo a la casa ho sincero ah dai 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 mi- ah sono tre ah non ci ho messo tu mi caccia? si no ancora no voglio uno scar come non vuole i cheat come non vuole distruggere il titolo? questo non vuole rompere le fondamenta no no vale 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 ma che vuol dire non vale? eh Abba non sono pronti non sono pronti non vuole distruggere fondamenta perché sono sul fortino alto Capito E' però non vuole manco farsi un fortino faccio così Faccio sarebbe però non vuole farsi un fortino Un fortino Più alto di quattro piani Allora io prenderei c4 non è lancia granate io prenderei c4 Ma altrimenti non vai decidere fondamenta No vale dai per favore Non possiamo fare proprio questa partita vale Saper giocare senza rompere fondamenta Se non rompere fondamenta non ci sapevo giocare Shama shama shamesh Apreti qua Cosa? Se voi siete pronti per giocare in tutti e due modi non solo Senza rompere fondamenta Si significa Perché ninja myth Ti figlio giocano senza rompere fondamenta Cosa non abbiamo detto Che cosa? E' no vale rompere fondamenta Sì Frami cerchi uno scar Andre mi spiace non voglio E' dimmi che io ho detto Che allora sono dei nabbi se giocano così Dice andre che vuoi Dice andre che se Vale Ah 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 Tatatatatatat Fra stai cercando scarpe di me Dice 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 andre che Se Che si deve in abito Sento di sviluppare fondamenta Lui è nabbo Se si parla così Così come così come così come Così in che senso In che senso Attivarla così Da mutato Se vuole lo smuto Io lo dico Smuta l'Andre Perché me I idioti La smette I messaggi A gminuto Non devo smutare Sì Sì Oh nabbi Guardate che vale Distruggere fondamenta Sì però Facciamo una cosa Facciamo che non ce lo puoi Distruggere subito Aspetta Tipo 5 anni Vabbè dai si gioca Come si vuole Dai ora ti rimuto Minchia lo scar Col cacchio Chi io? Sì Lui quanti anni ha? Tu va 12 Lui quanto me Ma trovami lo scar Aiutami Da morti Possiamo venire Ho evito Ma guarda Anno inizio a 60 secondi Inizio a 40 A quanto A due 18 minuti Per lo spara Andere ci possiamo andare Vabbè Vabbè Spero come te la cazzo Una cazzo E datemi un cazzo Di scarra M16 bianchi Fra Eh vabbè Sì 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 Lo so No fra l'ho lasciato Ho saltato un secondo Aspetta L'abbiamo detto Guarda quella te ferma te fermo Uno sta sporgendo la testa Aspetta 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 Non fare niente che tu c'hai il caccio C'è che vuol dire Tu c'è io c'è il cieco Allora uno è lì sotto Fra Sai qual è la mia tecnica Oh Sai qual è la mia tecnica Fra Siamo a nascoltami Siamo a nascoltami Noi Allora Entriamo a pinacoli Stealth Ok Cioè senza Senza dire che siamo a pinacoli E andiamo a rompere i fondamenti Con il piccone Piano piano E diciamo Siamo quasi arrivati Ok Ok No 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 che più c'è Io non ho un cecchino È vero Che più c'è E che fai C'è la cacciata 300 metri di distanza Allora Allora Abbassate 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 Vabbè C'è uno sopra Aspetta 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 C'è uno sopra C'è uno sopra Soprambassati Sei zitto Sei zitto Sei zitto No fermo Fermo No 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 Digli noi Stiamo Stiamo Luttando L'ultima cosa Quando ci stiamo arrivando Vieni 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 Ah ma l'hanno fatto sul palazzo Cosa? Palazzo Non posso Non posso giocare Non Dai No Però Non può Fra dimmi se hanno capito che siamo qua Ok 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 Frada che cosa è tenuto? Ah qua 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 Vedete Rip 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 Morti 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 L'hanno fatto Diminuto E' eliminato L'altro Ah l'hai deciso tu Ehi Bomb Bomb Ma come cazzo hai fatto? Come hai fatto? Ho fatto Ma io ho fatto Ma io ho fatto Proprio sopra Io ho fatto Proprio sopra Vieni Andiamo Via Sono incazzati Abbiamo fatto Ma sono incazzati Fra vieni Fra Fra vieni Vieni Perché non spiegamo i materiali Noi abbiamo solo Lo rotto Ma che faccia? Ma che corpia che vuoi svegliare Svegliare Svegliaviato Li vedo Li vedo Li vedo Li vedo Se non li prende nel luce Quale palazzo Ma Anche io al panino Sì 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 Vieni qua, vieni, qua, è la sopra, è la sopra per forti, non l'abbiamo rubato né tutto E' un po' di nessuno E' un po' di nessuno E' un po' di nessuno Eh? Simone, eh? Giro, girati, 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 girati Guarda un po' forte, guarda Non farà, girati tu guarda Eh? Eh? Eh, guarda, 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 che c'è? Cosa fa? Ma che ne so C'è un po' di nessuno Dai il tutto che è in te, anche Nel brazzo con la cassa di sopra No! Ma perché hai detto? Andri, vieni Fra Arrivano Fra Io ti odio Ti odio Fra, ho 35 di vita Strozzo Perchè gli dici pure dove siamo? Merda Vabbè, andrei Tanto, se ce le fanno siamo pari perchè quelle che non valevano Eeeh non valevano E noi siamo fermi Guarda i miei vita Eh, vado andre Ma che ne so No, vado andando ancora Oh Fra hai sentito come ho gridato quando ho visto la mia vita? Eeeh Mi son glitchiato Ok No fra, son glitchiato fra Sei qua? Sì 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 Un altro Ma è morto Le senza shield Mort Ora ti costruisci Sì André Dobbiamo farla anche se questo intieme Fra andiamo via andiamo via fra Spostiamoci sempre Mettila jump Mettila jump Mettila jump prima Vabbè, qua facciamo finta che le kill rubate non valgono Aspetta che li smuto di non spararmi se mi vedono, porca puttana Va io smutati se Oh io, 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 io contro Tommy e ogni persona contro del Dio Eeeh no, è bello così Senta aiutare il compagno, perchè se Simone muore Sclero io Simone non deve morire No, no, non devi morire, fai niente, fai niente, non devi morire Ma anche se no, muovo Andara, 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 andara! Andara, 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 andara che cazzo Guarda che sono in contagio dal test C'era uno che mi stava mirando Che zi di merda Oh andre, mi aspetti No Eeeh eeeh Frate, ma se prendiamo le le Oh mi sono già fatti andre Ah qua Sono arrivata, stanno arrivando Si è lì ma non gli ho visto ovest e uno sulla torre si ma dov'è la jump ovest fra ovest ovest dove campo da calcio mio io dov'è di no non l'ho visto scappato 255 ci sono io 255 stiamo arrivando ma mi fai dare quanti minuti andando a 15 minuti io dico a 15 minuti io dico a 15 minuti non so lo so lo so lo so l'hai già detto c'è la ma guarda guarda come c'è una cosa che ho fissi si è io non lo so non lo so prenderti il mio lama perchè sei andato a mazzo io noi siamo al campo da calcio si invece è vero no vero no 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 poi si vuole spara cazzo l'altra sulla montagna l'altra sulla montagna simone occhio cazzo fai simone ti fumi giochi da merda giochi che cosa devo fare siamo da lontano e un cucicaccia o mi bestemmiano basso in due france c'è ora mi assiglia nei due colpito uno è colpito uno che ha solo di curati curati per nessuno è stato nessuno è stato un'altra cosa ho dato 86 di vita con il scudo prendete per il culo il mio miglior amico stronzi mi piace ma era hs cioè era chiaramente hs ma la cana mi è solitato non mi ha ucciso non c'è motivo di passeggiare mi sono rifuscitato quindi sono cento cento volete sapere di dove andrà e non vale dove non ti interessa adesso solo la battaglia simone legno uno sta lì sempre stato via non cazzo sotto ci vuole perché mi è chattati mi è chattato mi è chattato mi è chattato non capisco che sta sparando ecco la via la roba 105 no 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 non è più dietro albera sopra costruzione sopra costruzioni scusa chichi dove sei? Ciao Andri, guarda di sopra, Andri, eh ho visto, ma quelli ci vabbiano, ma quando mai? No, ma va, tu che dici? No, tu che dici? Simone, Simone, do you love me? I love you? No, vero, è arrivato uno, è arrivato uno, oh, non l'hai stato incredibile la situazione qua, oh, si era uno stronzo, Simone, l'ho aiutato, dai, però, sono ammazzati in due, siete un fan, no, ti ho ammazzato in uno, ti ho ammazzato io, no, no, ce la siamo, è davanti in due, l'ho capito cinque volte con la miseria, diciamo, ho capito cinque volte con la miseria, ma raga, se non sapete fare team mating, se voi dove andate tutte e due da una parte diversa, non è colpa nostra, oh, nel nostro portino, occhio, non farei cambiare, ci rubano pure il portino, morti, dove, dove la fate ragazzi? Tutto il portino, lascenteci andare via, poi continuiamo a fightare, devo fare cambiare, scuola, letteralmente aranda, cioè, non è che, vediamo per me, ah, le cinque kill ho fatto io, adesso non valgono, no, due kill delle tue, Andre, allora ne ho tre, sì, vabbè, comunque, io non zero, perché ora ho una kill, guardi Andre, ah, sì, ah, facciamo quattro, ne abbiamo, eh, 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 l'organizzazione anche l'opera sull'evento la roba bella in un'altra via 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 andrea andrea ok che spacca tutto occhio occhio siccome dicono che 2 contro 1 ora facciamo io contro vero del 2 e tu contro 12 minuti ah che bello tanto viene arrivato comunque stavo volando giù ma devi buttare a ma rega non buttate giù tutto pliz è vero del volo che siamo non sopra grazie ancora più so un pc si invece siamo sopra oh kiki do you love me andrea per 5 di shield si ma sono andrea guardate hanno 3 andrea 3 aspetta aspetta 3 2 non lo trovo 3 no no dov'è dai 3 2 1 adesso oh il lanciarecchi non vale quindi no eh perchè hai trovato leggendario eh eh si noi l'abbiamo trovato oro e blu quindi oro e blu ecco che cosa smette ah guarda dov'è guarda dov'è Simone guarda dov'è eh Simone dai era l'hs se non mi rompevi i coglioni così cos'è l'hs headshot ah eh 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 il panico cazzo ah ecco qui dove sono eh sono nella montagna ah non ha affinato no non ha affinato ah mi sono confonduta ma perchè mi fai confondere spara con me maniaco Simo si inizia solo per me in testa eh in testa per me eh è troppo lontani se no se ci hanno fatto uno qua occhio che è ambasciardo uno dietro le nostre costruzioni quello senza la deriva quasi bulldoz non scopo ehi non scopo eccoli ah guarda quella che l'altra sotto bravo Christian bravo Christian bravo Christian bravo Christian e ti trovo anche noi abbiamo visto qua andrea simone guarda qua andrea guarda lui simone guarda qua vieni qua vieni qua vieni qua vieni qua tu vieni qua hai capito hai capito io ho rottolato andiamo 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 ah ma l'anno andiamo mi vogliono pushare no 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 non è che ci vogliono pushare ti abbiamo già pushato l'anno abbiamo fatto è diverso oh mio dio oh mio dio è una gialla ha bisogno di un po' di aiuto simone lo do simone lo do simone lo do io ci lascia la kill io voglio simone no uccidere lo twag sì uccidere lo twag simone lo do o no non ci mi neutrala No, qua c'è un altro Aspetta, evitando con l'altro tipo Eh, oh bro Sette col pompa, quanta vita c'hai? 41 Minchia, il pompa leva a 7, raga, che bella roba Era 8-shot 7 Eh, perché no? Ecco, ma sono mischiati i loot E ora si sono mischiati i loot Ok, va bene Adesso giocherò al 100% Quindi, matti No, io ho 98 98? Sì, mo' prendo tutto, poi divido tutto Oh dai Poi divido tutto giù Tu sai quali sono i miei? Sì, oh raga, non sparate cazzo Perché mi incazzo Sì, sì Raga, però vi devo mutare un secondo Per favore Devo saccare un attimo le cuffie No, no Ok, io mutati, ma gioco serio Oh, Fran Ah, cosa ti serve? Siamo cosa ti serve, Simo Oh tu hai munizione di tutto No, ho troppato le R in più Ok Qui no Quante ne hai? In più Oh via, andiamo via, scendiamoci Non siamo summer mi voglio un po' migliorando ma io non ho mai venuto mi avete cercato in questo concentrato no fra sei comunque perché mi ha ucciso lo stronzo sai perché mi ha ucciso ho mai visto il punto di questo gli poteri gli volevo dare anche un attimo la gloria perchè sai comunque mi son fermato un attimo col pompa spavare eh vabbè o tanto ci servono pure di merda oh ragazzo è muto ancora non ci possiamo sapere ci vuole allora chichi andiamo a incertidio con il ruolo no 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 mi viene mal di testa no ora vengono mi sento mal di testa io io non riesco a sentire mi sento mal di testa non ci vuole andare a incertidio perchè non ci vuole andare a incertidio con me ah non devo incertidio con me che mi viene mal di testa e mi viene mal di testa e dammi shield gioco di merda e ce l'ho a shield ma io no per sicurezza vedete se sono da un certo gioco io non trucco su cosa oh ma perché io non so se ucciderlo perchè il merda di pompa è scorato due colpi ma pure il tattico che cazzo lo prendo verde dammi il nonno dammi il nonno dammi il nonno dammi il nonno ce l'ho il nonno vuoi il tattico c'è un po' il nonno verde dove ho trovato aspetta mi sa che qua ce n'è uno blu mi sa che qua ce n'è uno blu mi sa che qua ce n'è uno blu e ce l'ho e allora che ora mi nasce una guardia con me ho trovato una garafona ce l'ha ho il c4 hai uno slurp hai uno slurp si si succhietti la garafona dammi lo slurp vieni la garaf vieni la garaf vieni la garaf andrea io ci sono il c4 potremo ma non lo facciamo perché noi siamo giocatori leali non è vero dai leali il c4 vieni la garafona 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 pompa nonno pompa nonno pompa nonno andrea una tattica vieni se vieni c'è un pompa nonno vieni 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 si succediamo le airdrop quanto è alto E' qua, 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 arrivate, arrivate, arrivate Avrò io Se trovi lo schermo lo dai Sì Dai vai, oh Alt Doppia carafona, prenditene uno Una tattica Chiudi uno con Le tue costruzioni e gli lancio tipo Tre granate per solenzi No fra, però Devi prendere le c4 fra Guarda che cosa stanno facendo Quante sono? 6,4 1,4 Perché sei? Perché hanno messo che Le c4 sono 3 E massimo 6 Vieni andiamo a rompere il culo C'è una scuola, c'è una scuola C'è una scuola, c'è una scuola Vabbè Avviciniamoci stealth Minchia 1,2 l'altro 0 Vabbè E se si vanta, mi sono fatta doppia Ho fatto 5 kg, stanzi E quelle da la nuova caduta valevano Però che non ballano No, no, vale, come no No, 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 vale Avevamo detto che No, 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 da una caduta valevano No, valeva Cioè Non subito, infatti hanno finito il fortino Abbiamo aspettato un po' Gli abbiamo rotto tutto Scusa, eh Hanno avuto pure tempo di infiltrare Di darci tempo di infiltrare C'è pinnacoli Ci sei fra dietro di me Oh Un'è ancora al campo da calcio Controlla nel fortino tu E' qua vicino Pensano che siamo sopra Pensano che siamo sopra E noi non saliamo, scusate Da dover dirti Sopra quello di prima, dico Non mi da, non mi da troppo Io non sto vintando L'hai visto dove L'hai visto dove hai visto? L'hai visto? Guarda, guarda la testolina Me lo lascia a me Franto durante Di breve Di breve Di breve Di breve Di breve Ma cosa ho detto Il tato Comitato Eh sì Pensavo di RHS Ho sparato troppo velocemente Guarda, guarda, guarda Che viene qua Guarda, che viene qua Convinto Perché prima si fattava la doppia Perché prima si fattava la doppia No, vabbè, doveva creparci Un dulce Abbiamo scuola Tra, aspetta No, dal fuori, no Se, erano, 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 dell'altro Fai, Andre Ehm, fortifico un po' Andre uno ha andato in quel fortino alto No, no, no Quello che si è giampato Ah, sì, sì L'ho visto L'ho visto Giampiamoci Pro inefra Vole c'ho L'ho Vieni qua Vieni, vieni, vieni Fa la posse in terza Andrè, fai vedere Cos'è la posse in terza Non posso Siamo qua Ha messo il falò Sto arrivando il suo compagno Vai bravo bravo Pagagli tutto Dietro Aspetta Morto uno Mi prenderei Su scar l'hai ucciso No l'ho ucciso Fra dietro 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 C'è l'ho elettato in testo L'ho elettato 174 Come dire Morto Andiamo via frat Andiamo via Dobbiamo andare via Cerchiamo lama Via via Basta 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 Ho una perappa Anch'io Cerchiamo dei lama Io Io curare A A G No Fra però dobbiamo cercare lama Fra arrivano L'oggi minuto lo sta prendendo il suo lutto E' poterlo Potevo rubare lo scaralo allo a quello che non l'ho fatto La fra che si fa Perché ci vede avete disegno in certe parti Sono incazzati neri Scusa No ma in maniera mia maniera Stato a parlare Andrei Ho fattuto colpi cecchino e colpi pompa No C'ho 161 colpi pompa 287 cecchino Ho fattuto niente nessuno No ma comunque ci sono dei colpi Sono caduti un po' qui in giù Guarda sotto di te No aspetta aspetta sotto di te Sotto del fortino di Di dove sto sparando io Ancora sto sparando io No no non ti sta sparando Dove sto sparando voi No Qua vieni però non mi devi uccidere Qua vieni Sto venendo Qua visto Qua ci sono colpi pompa Quelli che mancavano Qua Tu dove sei? No perché a loro pure Vieni a una di testa se mi sente Oh qui dove sei? Cacchio sono sotto qua Ah Qua vieni Caduto sto male Quell'altro sta rompendo tutto Venga la vorrei sparare in testa Qui qui Qua Oh è incazzato nero eh Oh fateci allontanare oh Guarda 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 che sto Tronzo guarda eh Guarda che vieni incazzato Via 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 Se ci spara da dietro Cosa? Non abbiamo rubato niente No Poi non possiamo Si almeno rompevano Le fondamenti Basta 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 pillare oh Tra Eh io c'ho una craft Ho due posti nell'inventare vuoto Oh ma sta già sparando Dì che non siamo pronti Si si andiamo pieno Io no Cazzo Cioè bastarde hai capito? Noi ci allontaniamo intanto loro prendono l'eye ground hai capito? Ah 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 fermo 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 Fra minchia perché sempre nel mio portino dovete venire? Si 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 perché dovete essere un po' riette No ma dico pure Anto lo so Porca T'ho detto T'ho detto Pronto eri? Minchia prontissimo Si sta alzando Gimmy Neutron è lì L'altro è lì Tre compagni di merda Un po' le fondamenta Un po' le fondamenta Andai io andiamo a uscire Eh ti devo dare una caraffa Aspè 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 To' 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 Un bastardo è sceso Un bastardo è sceso eh Un c'ho da me di scontro Però guarda lo stronzo guarda ha fatto finta E poi inizia a sparare Fra lo pusciano I jump cose Tieni con questo Ma chi è morto? Ah No si dito Sring Hai capito? Ma che cazzo? Tu Tu ammazza quello che c'è sotto Ammazza Gimmy Neutrono Tutto calculated Calmati Mi sta allargando Basta non vedo fondamenta Io devo fare una cosa Gimmy Neutrono stronzo Anche il bravo con te È vero che era quello lì che si vantava Andai sopprondo a puscire quello giù Però senza farmi vedere Vedi che senso è da dietro Guarda non mi ha visto Vivo il gusto Dai Dai Fra calmati Che due palle che sei oh L'altro vuole morire È desideroso però Hai impazzito guarda Cosa? Ma faccio l'infamata Fra C'è messo dentro il cano Non sto male Quello streamer Morto l'altro Perè perè Infatti È massacra Lo massacra Lo massacro Eh ti caghi sotto 360 360 360 No No Nella Sei partito C'è se ti va tanto ma sto arrivando a casa O io ho fatto HS ma doveva è tutto 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 o comunque sono molto forti tutti i tizi chiamessi insieme fanno una coppia da sballo cazzo io e te facciamo una coppia da sballo no tra noi tutti insieme siamo scarsi andiamo a scuola che in quanto vuoi via via prima che ci giudiciamo tra me che rompe i coglioni non è giù la sopra qua tu l'avevi fatto cadere giù che tu l'avevi fatto cadere quindi è giù vabbè rompi tutto lo stesso ma non si rompono mai uno meno uno meno due aiutami fra spaccato ti è passato un colpo di fianco la montagna a sinistra ma dai ma è convinto agimi utron no è l'altro nabbo il nabbo è quello con il vestito proprio quasi completo si ma dai fra ma perché perdiamo sempre dai ground park e vabbè andrea no ma noi siamo siamo handicappati fra devo fermare un milenio non capisco dove eseggi manco io l'avrai già ucciso non capisco non faccio a t non capisco ti giuro non capisco ti giuro non facciarti sinistra portina sinistra visto 26 mo mi chiede che quando ha rotto la rampa stavo gli stavo spaccandoli dov'è lo stronzo del tarocco il gmail dovevo dove non lo so sto spavendo a quello che stai spavendo tu no fra ma cichinato ma stavo spavendo di scar ma poi era edge no vabbè fra io l'avevo preso in testa non mi ha neanche contato lit vabbè comunque è l'unica kill che mi ha fatto una lui e una il suo compagno una lui e una il suo compagno come fa a beccarmi con no ma poi stava sparando con lo scar ha switchato a cazzo col cecchino e mi ha preso un po' dire che sto lottando di che sto lottando mi stanno sparando no basta fra è arrivato il momento della rivelazione come il power 200 per cento o sono senza scelta colpito di minuto dov'è 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 sempre lì sì mi stai raccorando qual'altro mi rompe le fondamenta ah ma sto sparando da lì sotto beccato che sono arrivo stranso push allo merda luce christian mi stava morto a uno ti vedo a pushare christian lo stronzo no lasciamolo no ti aiuto fra dai rompi tutto bravo andiamo in cerca di scelta scappiamo al genere vero vero andiamo via andiamo via vi lasciamo morire quanti kill hanno gminutron uno l'altro tre io undici già c'è sono i full shield qua per te andrei tu tienimi questo devi questo devi questo no però c'è fuori al centro non mi ha capito che è più forte abbiamo avuto il chisame più forti ma comunque pollice a 3 kill due due una mia gminutron una che sarebbe la mia cecchinata solo che vabbè no la mia cecchinata no gminutron ha ucciso me con la cecchinata no ha ucciso me no ha ucciso me mi ha cecchinato guarda c'è la kill quello che ti ha ucciso era prima vabbè mentre filavo con gminutron ha capito ecco perché è un merdo tutto perché palla anche uno scarico è vero l'uomo si chiude proprio qua sulla punta eh l'ambas dove c'è un altro questo male dove c'è un gioco e io volevo fare la vittoria reale fra se quanta è che non ne faccio una da quando ho fatto la settantesima quando hai fatto la settantesima? eh due settimane fa 20 ora mi sono allenato un po' quindi ora sono in attento col pompa e poi sono le visti eh dove sono? dove sono? no no le ho visti mi sembra che avevano buttato no ci sono ci sono ce ne sono 4 smuta lì chiediti dove sono no aspetta dove siete? non dirgli dove siamo noi non dirgli dove siamo noi voi dove siete? mi hanno sparato mi hanno sparato si è preso si ma dove ti ho sparato? non lo so è da davanti ah ma sono in culandia c'è mai tanto ma dove ho? fra come ho fatto a prendermi fra? fra da dietro al muro? hacking? ah hacking? ma quando l'hacking? ah mi sa che mi ha preso il braccio ma non fanno qua affanculo dove andremo? sono ancora lì a pinnacoli e però dove? non lo so fra troppo lontani per capire oh fra non fightiamo la nostra priorità è come si dice restare vivi mi faccio i raguin vedi sparano solo di cecchino perché sono lontani fra dobbiamo stare senza stare sulla punta la punta di l'angela la mega skype iso intanto io rinforzo qua mi sto aggami stavo cadendo ho 900 di ping calmati ho capito mi spara fai dei muri contro il nato ci sono i rinforzi si calmo ma contro chi siete? Jimmy Neutron è il suo amico scarso quello lui è scarso ah ma siete di tutti i parti? si dicevano vabbè io secondo me Tommy lo ammazzo sette volte contrarie tu undici 10 minuti continua a capire non te la capire dove sono vabbè sono lontani voglio giocare anch'io stanno arrivando no ma non stiamo cambiando il gioco Mike stiamo cambiando il gioco frasi tu che buildi? non lo so ho fatto una moraglia oh non coprire qui Andrea dove sono? qua ci mettiamo il falò frasi giù no frasi io ho visti io ho visti io ho visti ho visto le uccise ho sparaggi minuto cadavere colpito 105 li ho levato teniamoli occupati io non lo faccio venire manco a burro copriti da Gmi Neutron fra però dovrai signor su fra perché? sto piazzando il falò arrivo Gmi Neutron è stronzo si trovano la jump lì è finita buttagli tutto buttagli tutto derivato 22 Gmi Neutron ho 5 polo Andre vieni qua vieni qua dentro vieni qua dentro no porco piazzano uno qua piazzano uno qua piazzano uno qua guarda troppo tardi oh troppo tardi chiudi la vai chiuderla oh ci sono loro si si fa niente tanto io sto sono immortale yeah balla ti prego Gesù balla oh yeah quindi siete camperonissimi camperonissimi ma se ho 12 kill minchia veramente vabbè comunque sei più forti io e simona dai ah comunque prima 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 che fate che dici siamo nabbi io sono un pc player sto giocando con mouse questa sera mi dispiace per voi non potevate battermi neanche se volevo manco per sbaglio fate un saluto dai mi avete